Buongiorno e benvenuti all'oroscopo di oggi, cominciamo con l'Ariete, nuovi movimenti nel futuro ma purtroppo sono tutti intestinali. Toro, fino ad oggi la vita ti ha sorriso ma a questo punto credo che fosse per prenderti in giro. Gemelli, le stelle hanno in serbo delle sorprese per te ma onestamente a me detta così mi pare più che altro una minaccia. Cancro, da domani le cose inizieranno a migliorare anche perché peggiorare era veramente impossibile. Leone, il periodo che ti aspetta sarà una grande scommessa ma visto come è andata fino ad oggi io ti consiglierei di scommetteci poco. Vergine, da oggi ogni giorno può essere quello giusto per realizzare i tuoi sogni, il problema è che tutti gli altri sono i giorni sbagliati. Bilancia, finalmente possiamo dire che il futuro sarà tutto molto in discesa, peccato che tu hai vieti c'hai un paio di superga lisce. Scorpione, i prossimi mesi saranno un po' incerti, la cosa certa sarà soltanto una ma non credo che tu voglia sapere quale sia. Sagittario, i giorni difficili sono finalmente finiti, adesso cominceranno quelli complicati per poi passare a quelli rovinosi. Capricorno, nei prossimi mesi molte cose intorno a te cambieranno, tu invece continuerai a fare la solita vita di stenti. Acquario, in questo periodo uno dei segni più fortunati, quindi pensa l'altri, come stanno messi. Pesci, a volte le cose prendono una piega inaspettata che ti migliora la vita ma questa non è una di belle volte. Grazie per averci seguito qui da Brancolo nelle stelle e tutto, linea allo studio. Grazie. Grazie.